Il primo canto dell'Inferno dal verso 26 in poi. Siccome si tratta di una situazione tragica, allora ascoltiamo un'opera lirica tragica, cioè ascoltiamo brani dal Don Carlo di Verdi. Questa è l'ouvertura, ad esempio, del Don Carlo di Verdi. Un'opera tragica da un dramma storico di Schiller. Il verso 46. Siamo proprio nel momento in cui Dante è minacciato da tre fiere. Eravamo arrivati al punto in cui compare la seconda fiera, che è il leone. Ci eravamo fermati qua, poi era suonata la campanella. E il leone è molto più minaccioso della lonza, perché la lonza, abbiamo visto da soli, possiamo superare il peccato dell'incontinenza. Ma il leone, rappresenta la parte bestiale di noi, che certe volte prevale e non riusciamo a fronteggiarla. Questi parea che contro me venisse. Il leone sembrava che venisse contro di me, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Insomma, sembrava proprio venire verso di me, con la testa alta, con la fame, quindi era proprio affamata anche questa fiera. sì che parea che l'aere ne tremesse, tanto che sembrava che l'aria, quindi l'atmosfera stessa, tremasse per il suo arrivo, per l'arrivo di questo leone. Svariati artisti hanno raffigurato questa scena. Qui vedete, per esempio, Joseph Anton Koch, particolare dell'affresco nella stanza di Dante, nel Casino Massimo a Roma. Una casa, insomma, una piccola villa, no? In realtà da tedeschi, oltretutto, a Roma. Ecco qui, questa immagine, ve la faccio vedere anche a tutto schermo, questa di cui vi ho appena parlato. E' un po' raffigurato tutto il canto, in realtà, in questo quadro, no? Perché c'è anche lo smarrimento di Dante, c'è anche Virgilio. E questo è William Blake, uno scrittore, scusate, volevo dire, un pittore romantico, insomma, no? Quindi da qui emerge proprio questo senso del, diciamo così, del limite della paura, nello stesso tempo si intravede anche il sole, no? Che abbiamo detto è una fonte di speranza. E' questo William Blake. Proseguiamo, pertanto, con la paraprasi dei versi del primo canto dell'Inferno. Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti feggia viver grame, questa mi porse tanto di gravezza, con la paura a cuscia di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. Mentre era già angosciato dall'arrivo di questa fiera del leone, proprio in quello stesso momento, compare un'altra fiera, ancora più minacciosa del leone, ed è la lupa, che sembrava carica, carca, carica, piena, insomma, di tutte brame. Infatti, abbiamo detto che il leone rappresenta la violenza, la lupa rappresenta l'avidità, l'ingordigia, che era molto frequente all'epoca, che sembrava carica, quindi, di tutti quanti i desideri, nella sua magrezza. Proprio il fatto di essere così magra testimoniava ancora di più la sua ingordigia, la sua avidità. Molte gente fece a vivere grame, vuol dire che sono già stati tanti quelli che hanno subito l'influenza di questa, insomma, dell'avidità, come dicevamo. Questa mi porse tanto di gravezza, quindi lei mi fece tanta angoscia mi pose, con la paura che uscìa di sua vista, quindi con la paura che lei stessa provocava, che io perdei la speranza dell'altezza e la lupa, simbolo dell'avarizia nel senso largo, di rapacità e di cupidigia, secondo già San Paolo nella lettera a Timoteo. Ecco, quindi lei mi fece talmente tanta paura che io persi proprio la speranza di salire e fece già vivere molte persone, quindi molti popoli, insomma, soprattutto dall'epoca di Dante, sono presi da questo vizio, insomma, e io quasi ho perso la speranza di raggiungere la cima del colle, l'altezza, che io perdei la speranza dell'altezza, l'abbiamo già visto anche di questo artista contemporaneo su Lonnie Robertson, che ha raffigurato, ha fatto delle illustrazioni della Divina Commedia di Dante. E qual è quei che volontieri acquista e giugna il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e sa trista? Ecco, attenzione, ricordatevi che non potete mangiare e bere durante... ecco, basta, no, non si può... ecco, quindi questa è una similitudine, quindi qual è quei che volontieri acquista? Quindi, fate distrarre, oltretutto, eh? E come l'avaro che con tutta la sua volontà mira sempre ad acquistare beni, ad acquistare proprietà, se giunge e giugna il tempo che perderlo face, ecco, qui vedete anche in questa tragedia ormai questa opera lirica ci sono anche le parti tipicamente liriche, insomma, ci sono continui cambiamenti anche di stati d'animo, di passaggi di tonalità diverse, esattamente come avviene abbiamo visto nel primo canto dell'inferno. Dicevamo, se arriva al momento in cui giugna il tempo che perderlo face, un'occasione che gli fa perdere tutto quanto, scusate, all'avaro, che in tutti i suoi pensieri piange e si attrista, a questo punto lui si rattrista e piange in ogni suo pensiero profondamente, tal mi fece la bestia senza pace, così mi rese inquieto, addolorato, angosciato, la bestia senza pace, cioè la lupa che non ha mai pace e quindi che non dà mai pace perché è sempre insaziabile, arida, che venendomi incontro a poco a poco mi ripigneva là dove è soltace, che venendomi incontro, venendo contro di me a poco a poco mi stava rispingendo, mi ripigneva là dove è soltace, cioè verso la selva oscura, dove il sole non penetra, dove il sole non si fa sentire, il loco d'ogni luce muto aveva detto con una sinestesia nel verso, scusate, dirà nel verso 28 del canto quinto dell'inferno Dante, insomma, mi rispingerà verso la tenebra, una lonza era rinchiusa da una città di Firenze, città dalle mille contraddizioni, e insomma la lonza come abbiamo detto rappresenta i vizi, i difetti, l'incontinenza, i vizi che attanagliano tutti quanti gli uomini che però con un certo con uno sforzo di volontà noi possiamo superare. Poi, la corte di Francia e comunità d'Italia da tempo sono come dei leoni che sbranano i nemici politici e quindi parlando di questa sua esperienza personale Dante parla anche in un certo senso di quello che sta avvenendo nel suo tempo della storia del suo tempo e quindi si possono rappresentare simboleggiare interpretare volevo dire queste tre fiere anche come simboli della situazione politica dei potenti dell'epoca di Dante la lonza potrebbe rappresentare Firenze anche perché è un po' trasformista diciamo la corte di Francia e i comuni d'Italia potrebbero rappresentare i leoni nel senso che sono più violenti infatti i comuni d'Italia sappiamo che in questo periodo sono presi da lotte intestine che spesso vengono liquidate con con uccisioni con uccidi eccetera ma la lupa potrebbe rappresentare oltre la stessa città di Firenze che abbiamo detto che è avida perché è tutta piena di banchieri notai che si stanno arricchendo in questo passaggio di secolo dal 200 al 300 potrebbe rappresentare anche la corte papale infatti anche la corte papale è insaziabile dal punto di vista economico se pensate ad esempio che Bonifacio VIII chiede le tasse ai fiorentini e i fiorentini pagano fior di quattrini insomma al papa al papa Bonifacio VIII e quindi la sua avidità Dante è sottoposto alle stesse tre tentazioni con le quali il diavolo aveva allettato Gesù nel deserto ecco vi ricordate che può essere letto il testo dantesco a quattro livelli l'ultimo livello quello anagogico potremmo dire quello cristologico cioè quello più religioso più profondamente religioso e si può trovare quindi anche un senso un significato religioso è addirittura quasi un'analogia con quanto ha vissuto lo stesso Cristo nella vicenda di Dante ad esempio le tre fiere anche Cristo è stato sottoposto a tre tentazioni quella dell'incontinenza a un certo punto il diavolo nel deserto gli ha detto se sei figlio di Dio di che questi sassi diventino pane gli ha detto che l'incontinenza diciamo il vizio che si struttura in lussuria gola avarizia insomma ira ecco la gola ecco se sei figlio di Dio di che questi sassi diventino pane e a Cristo non non si lascia tentare dal diavolo poi c'è la superbia se sei figlio di Dio gettati giù perché poiché sta scritto ai suoi angeli darà ordini e lo solleveranno in cielo dovete sapere infatti che il leone oltre a poter simboleggiare la violenza può rappresentare anche la superbia perché il leone è il re degli animali quindi si sente superiore a tutti e l'avidità tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai e c'è la stessa successione anche nel caso delle tentazioni di Cristo c'è prima la tentazione dell'incontinenza poi quella della superbia infine quella dell'avidità dice il diavolo a Cristo tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai ma ovviamente Cristo non cade in queste tentazioni Dante non riesce a superare le tentazioni da solo soprattutto l'avidità c'è qualcosa che gli impedisce di raggiungere la luce da solo e allora ha bisogno di un aiuto avrà bisogno dell'aiuto di Virgilio qui vediamo l'illustrazione di Suroni Robertson che condensa in sé tutto quanto il primo canto dell'inferno e come vedete partendo dall'alto in alto a sinistra vediamo intravediamo il manto maculato della lonza in basso lo smarrimento di Dante al centro l'immagine tremenda della lupa che sembra quasi non essere neanche una lupa ma un altro animale perché proprio è estremamente ingordo e poi si intravede la sagoma del leone e infine Virgilio e infatti proprio nel momento in cui è più insomma angosciato Dante sembra addirittura essere ricacciato abbiamo visto verso la selva oscura mentre chi rovinava in basso l'oco abbiamo detto infatti questo primo canto è un alternarsi anche di situazioni psicologiche diverse proprio nel momento del maggiore sconforto dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio pare a fioco quindi mentre io stavo cadendo ormai verso la selva oscura mentre stavo rovinando verso il basso precipitavo non solo in senso fisico ma anche in senso morale perché la belga dell'avidità lo respingeva a poco a poco al punto da perdere l'anima dinanzi ai miei occhi si mostrò apparve mi si offerse se offerre è un latinismo mi si fu offerto si offerse alla vista all'improvviso uno che sembrava evanescente come lo sono le immagini che hanno a lungo taciuto sono state cioè dice il pagliaro per troppo tempo lontane dalla nostra coscienza quando vidi costui nel grande deserto miserere di me gridai a lui come dirò nella prossima slide queste sono le prime parole della della divina commedia fino adesso abbiamo visto il nostro dante autore scrittore che racconta che si che insomma sintetizza riassume eccetera adesso invece abbiamo le prime parole pronunciate la prima parola pronunciata in assoluto della divina commedia è un atto di pietà è il riconoscimento che lui ha bisogno di qualcuno che qualcuno soprattutto lo perdoni miserere di me gridai a lui qualche tu si o d'ombra o d'uomo certo questo è l'atteggiamento giusto dell'uomo per Dante l'uomo cristiano l'uomo di fede deve riconoscere anche nel pieno del peccato se riconosce è già sulla buona strada per potersi liberare da questo peccato miserere di me abbi pietà di me abbiamo appena studiato in latino l'imperativo del deponente il deponente miserior all'imperativo fa miserere miseremini quindi significa tu abbi pietà tu di me gli dai a lui qualche tu si chiunque tu sia od ombra omo certo che tu sia un'anima un'ombra quindi dell'aldilà oppure che sia un uomo in carne ed ossa suono e vista si fondono in una sorta di sinestesia mentre chi rovinava in basso loco dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio pare a fioco tra occhi e silenzio in questi versi insomma c'è un alternarsi di campi sensoriali coinvolti quello della vista e quello dell'udito proprio a testimonare la complessità della situazione miserere di me gridai a lui dice il professor Franco Nembrini che l'umanità di Dante è tutta racchiusa in questo miserere cioè nel chiedere perdono a tutti capita di smarrirci ma l'essere uomini sta proprio in questo cioè nell'invocare nel chiedere aiuto Dante non rimane solo nel dolore nella disperazione ma chiede aiuto ad un altro uomo Virgilio è lontano nel tempo chi per lungo silenzio pare a fioco ma vicino al cuore di Dante ho già detto la prima parola che Dante pronuncia non a caso è una richiesta di aiuto miserere miserere Virgilio non arriva quando lo vuole Dante ma mi si fu offerto è inaspettato è gratuito l'aiuto non arriva quando lo vuole lo vuole l'uomo no? ma l'uomo deve semplicemente riconoscere che a un certo punto succede qualcosa Dio si mostra attraverso ciò che a Dante preme di più la poesia la letteratura Virgilio è allegoria più complessa rispetto alle tre fiere nel senso che rappresenta la ragione in generale la cultura la poesia la letteratura e perfino profeta di Cristo nell'interpretazione medievale della quarta ecloga infatti come abbiamo studiato anche in storia della letteratura Virgilio avrebbe profetizzato la venuta di Cristo in una ecloga appunto in cui parla della nascita di un bambino quindi per i cristiani medievali per Dante in modo particolare Virgilio è importantissimo risposemi non uomo non uomo scusate uomo già fui non uomo uomo già fui risposemi non uomo uomo già fui anche un chiasmo perché abbiamo insomma il verbo il sostantivo il sostantivo è il verbo quindi io adesso non sono più non sono più un uomo in carne ed ossa uomo già fui sono un uomo sono un'anima sono stato un uomo e li parenti miei furono lombardi mantoani per patria ambedui insomma i miei genitori parentes latinismo vuol dire genitori ovviamente non vuol dire parenti furono entrambi lombardi furono tutti e due dell'Italia settentrionale che nel medioevo era chiamata Lombardia da Longobardia per luogo di nascita per patria mantoani per patria notate la dieresi eh Virgilio nacque infatti ad Andes che oggi si dice corrisponda alla città di Pietole presso Mantova che viene chiamata anche appunto Pietole Virgiliana perché dette in Italia questo grande poeta nacqui sub Giulio ancor che fosse tardi sono nato nel 70 avanti Cristo quindi sotto Giulio Cesare ancor che fosse tardi e vissi a Roma sotto il buono Augusto nel tempo degli dei falsi e bugiati quindi sono nato appunto sotto Giulio Cesare e sono vissuto a Roma sotto il buono Augusto nel tempo degli dei falsi e bugiardi nel tempo appunto del paganesimo quando c'erano gli dei falsi e bugiardi perché erano degli idoli e non erano il Dio vero io adesso che sono un'anima dell'inferno so come stanno realmente le cose so che il Dio è uno solo il Dio vero no? e quindi ecco perché dico gli dei falsi e bugiardi allora non ne sarei assolutamente accorta ma adesso riconosco che le cose stanno così ecco poi andiamo avanti con le slide poeta fui e cantai di quel giusto anche qua c'è una specie di chiasmo tra sempre sostantivi e verbi sono stato un poeta c'è un'inversione una nastrofe e cantai di quel giusto figlio d'Anchise notate l'enjamant cantai insomma di Enea quel giusto saggio grande eroe figlio di Anchise che venne di Troia venne da Troia poi che il superbo Ilion fu combusto dopo che Troia fu bruciata fu distrutta alla fine della guerra di Troia superbo perché Troia si ergeva tra tutte le città dell'Asia come la città più ricca più importante del tempo Superbum Ilium del resto è un verso tratto dal terzo libro dell'Eneide di Virgilio quindi una specie quasi di traduzione della insomma l'ha detto lui anche nel suo testo latino insomma il superbo Ilium Superbum Ilium si autocita volevo dire visto che sta parlando lui visto che sta parlando Virgilio stesso ma tu perché ritorni a tanta noia perché non sale il dilettoso monte che principio e cagion di tutta gioia ma tu perché ritorni a quel luogo d'affanno cioè nella selva oscura perché invece non sali il colle il dilettoso il dilettoso colle è contrapposto ovviamente alla noia della selva che è soltanto principio e scala cagion causa della gioia compiuta della beatitudine celeste del complimento della felicità cagion di tutta gioia quindi perché non cerchi la salvezza perché nuovamente ti volgi verso il basso or se tu quel Virgilio quella fonte che spande di parlarsi largo fiume risponde stupito Dante sei proprio tu quello quel famoso ille quella ille sappiamo infatti che in latino ille illa illud significa anche quel famoso quel famoso Virgilio quella fonte dice metaforicamente quella fonte che spandi un fiume così largo di eloquenza poetica già nel convivio Dante aveva scritto liberamente coloro che sanno porgono della loro ricchezza li veri poveri e sono quasi un fonte vivo dalla cui acqua si refriggerà la naturale sete è chiaro quindi che dentro questo incontro fra Dante e Virgilio c'è tutto il valore la valorizzazione del mondo classico che abbiamo detto mi ha spiegato la volta scorsa in storia della letteratura è importantissima per gli scrittori cristiani e per Dante in modo particolare a partire da Sant'Agostino infatti gli scrittori cristiani riconoscono che hanno da imparare dal mondo classico o degli altri poeti onore e lume è Virgilio in modo particolare è la guida è il maestro di Dante nel senso che lo stesso poema che lui adesso sta scrivendo ha come fonte anche l'Eneide di Virgilio risposi a lui con vergognosa fronte si sente piccino si sente piccolo Dante nei confronti di Virgilio o degli altri poeti onore e lume valiami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercarlo il tuo volume a questo punto mi valga mi giovi presso di te il lungo studio condotto con grande amore endiadi il lungo studio e il grande amore è una specie di espressione che è resa con due elementi che potrebbero essere messi insieme e questa è l'endiadi che mi ha fatto cercare infatti tra l'altro tra studio e amore non c'è contraddizione ma quasi amore è la tradizione del termine latino studium vuol dire passione in latino studium che mi ha fatto cercare il tuo volume cioè che mi ha fatto studiare leggere attentamente continuamente la raccolta delle tue opere certamente le neide ma anche le bucoliche che come abbiamo visto erano molto valorizzate nel medioevo in particolar modo la quarta tu sei lo mio maestro e il mio autore tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore e moltiplicarsi di figure retoriche di ripetizione l'anafora tu tu mio mio ecco sottolineano la partecipazione di Dante che è entusiasta di trovarsi di fronte a quello che è appunto il suo maestro la sua guida il mio maestro il mio modello di poesia autore perché persona degna di essere creduta e obbedita dice lui stesso nel convivio tu sei solo sei l'unico da cui io tolsi da cui io ho derivato lo bello stilo lo bello stilo è quello che Dante nel De vulgari eloquenzia chiama lo stile tragico ricordate la ruota di Virginio l'unico che possa trattare gli argomenti più alti della poesia armi, amore, virtù ecco quindi che è proprio il suo poema dell'Eneide il modello principale del poema di Dante vedi la bestia per cui io mi volsi quindi vedi la bestia la fiera che l'avidità la lupa volevo dire che rappresenta l'avidità per cui io mi volsi è stata lei a ricacciarmi indietro a spingermi verso il basso nuovamente verso la serva del peccato se sto peccando è perché sto peccando di avidità come tutti quanti i fiorentini del mio tempo in realtà non è un suo peccato personale ma condivide con la gente è uomo del suo tempo e quindi condivide con la gente del suo tempo questa ricchezza esagerata aiutami da lei famoso saggio che la mi fa tremare le vene i polsi cioè dammi una mano aiutami a superare questa difficoltà questa fiera in particolar modo la lupa famoso saggio poiché lei quindi mi fa tremare le vene i polsi anche questa è un'espressione che è divenuta quasi proverbiale i versi di Dante sono poi diventati quasi proverbiali nella storia della nostra lingua a te conviene tenere altro viaggio notate la dieresi sulla I cioè ti conviene andare per un'altra strada devi prendere un'altra strada non verso il basso ma neanche andare subito direttamente verso il colle della salvezza da solo no devi seguire me se vuoi campare d'esto loco selvaggio se vuoi sopravvivere da questo luogo così in ospitale fuori di metafora significherebbe se vuoi la tua sopravvivenza spirituale cioè se tu vuoi continuare a vivere spiritualmente non morire spiritualmente devi seguirmi devi seguire devi seguire seguire me come guida che dal momento che perché questa bestia c'è la rupa per la quale tu gride per la quale tu stai gridando non lascia altrui passare per la sua via ma tanto lo impedisce che lo uccide non lascia passare nessuno per la sua strada ma lo stacola talmente tanto che lo può anche uccidere se volete adesso se per caso è terminato no non è terminato sta ancora andando l'opera lirica del Don Cap pensavo che fosse terminata invece era solamente una musica pochettina attenzione ricordatevi che questa sopravvivenza questa morte sono simboli sono simboliche quindi si parla anche della morte il peccato spirituale tanto che non impedisce che lo uccide vuol dire che se una persona si lascia prendere da questo peccato muore spiritualmente a te conviene tenere altro viaggio cioè devi fare tutto il viaggio un viaggio diverso da questo per capire te stesso e per salvarti abbiamo già detto che c'è una diresi è evidente quindi che vuole che fermiamo la nostra attenzione su quella parola sulla parola viaggio che è una parola tematica nella nella Divina Commedia perché la Divina Commedia è un viaggio è un cammino è un percorso è un itinerarium mentis in deum e ha natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria cioè l'avidità che prevale ormai nel nostro tempo ha una natura così malvagia così colpevole che mai non empie la bramosa non riesce non si soddisfa mai se uno è avido non è soddisfatto da niente è bellissima questa cosa perché sta parlando del suo tempo ma potrebbe parlare anche del nostro tempo è vero o non è vero che anche nel nostro tempo noi non ci accontentiamo più di nulla a partire da quando siamo potuti permettere tutto quello che volevamo con il consumismo continuiamo la nostra vita non è altro se non una ricerca continua affannosa di soddisfare i nostri desideri molti sono gli animali a cui si ammoglia e più saranno ancora infinché il veltro verrà che la farà morire con doglia attenzione qui abbiamo una metafora un'allegoria sempre più complessa anzitutto dice che questa bestia si ammoglia con molti altri come potrebbe essere interpretato per esempio molti sono i vizi che si legano con quello della lupa cioè molti sono i vizi peccati insomma che si accoppiano con la cupidigia con l'avidità dice per esempio San Paolo la cupidigia è la radice di tutti i mali cresceranno sempre di più finché verrà il veltro che la farà morire con doglia con dolore ecco attenzione qui abbiamo davvero un elemento molto importante questo veltro sarebbe un cane da caccia il cane da caccia quindi può far scappare via la lupa ebbene questo cane da caccia potrebbe essere un simbolo variamente interpretato quindi potrebbe essere anche la venuta dello Spirito Santo come dicevano alcuni profeti del tempo poi potrebbe essere rappresentato da Dante stesso oppure potrebbe essere impersonale e quindi non facilmente identificabile ma approfondiamo il discorso su questo veltro questi non ci berà terra né peltro ma sapienza amore e virtù e virtude il veltro non cercherà terra quindi probabilmente non vorrà possedere terreni né peltro ecco il peltro potrebbe essere il denaro infatti il peltro era una lega di stagno con altri metalli che poteva essere usato per delle delle monete e quindi come dire il veltro ovviamente non sarà avido né di terreno e territorio né tantomeno di denaro ma sapienza amore e virtute si ciberà solamente di questo e quindi cercherà solamente la sapienza l'amore e la virtù che devono essere insomma i principi ispiratori della vita degli uomini e sua nazione sarà tra feltro e feltro allora attenzione qua potrebbe essere la sua nazione come espressione geografica potrebbe essere tra feltre e monte feltro ecco in senso geografico insomma potrebbe essere un personaggio nato in quella zona ad esempio can grande della scala oppure uguccione della fagiola o guido da monte feltro o benedetto primo che erano nati in questa zona in questa regione cioè tra feltre quindi tra il veneto e monte feltro e quindi la romagna una regione piuttosto vasta comunque però questa insomma questa espressione tra feltro e feltro potrebbe essere anche interpretata diversamente infatti si usava il feltro come panno per le urne e quando bisognava eleggere qualcuno ad esempio un imperatore si usavano delle urne si mettiamo dentro delle schede con dei voti oppure feltro e feltro vorrebbe dire tra cielo e cielo per esempio il getto dice che tra feltro e feltro indica il suo viaggio di cielo in cielo di Dante e quindi vorrebbe dire appunto che il feltro è Dante stesso infine il feltro potrebbe indicare anche il panno monacale che sia un monaco quindi quello che questo feltro cane da caccia insomma che scaccerà l'avarizia l'avidità dalla storia del mondo del tempo di Dante ecco come era un frate gioacchino da fiore che aveva pensato che arrivasse l'epoca dello spirito santo che stesse per arrivare volevo dire l'epoca dello spirito santo dopo l'epoca l'età del padre antico testamento l'età del figlio nuovo testamento sarebbe giunta l'età dello spirito santo che aveva portato una nuova rigenerazione come vedete quindi questo insomma questo personaggio del feltro è stato interpretato in modi diversi di quella umile Italia fia salute questo feltro questo cane da caccia finalmente porterà la salvezza di quell'umile Italia cioè dell'Italia per cui morì la vergine Cammilla Eurialo e Turno e Niso di Ferute insomma porterà finalmente la liberazione la salvezza degli stati d'Italia umili nel senso che umiliati perché perché l'Italia non è una nazione è divisa in piccoli stati sottomessi ad esempio all'imperatore anche se lui era un filo imperiare dicevamo di quell'Italia così comunque martoriata diciamo umile vuol dire da un punto di vista politico così frammentata quell'Italia per cui morì la vergine Cammilla ecco Cammilla è un personale l'abbiamo letto noi l'episodio di Cammilla la morte di Cammilla ecco nell'Eneide di Virgilio Eurialo e Niso questo sicuramente l'abbiamo letto vi ricordate i due troiani mentre Cammilla è diciamo latina combatte contro i troiani e Turno e Turno è proprio il capo dei Ruturi e l'antagonista di Enea che morirà insomma tutti quelli che muoiono in quella lotta intestina scusate in quella lotta volevo dire dicevo intestina civile nel senso che è compiuta in Italia fra italiani e progenitori di italiani insomma che vede contrapposti i troiani e i latini che viene descritta nei libri da settimo al dodicesimo dell'Eneide di Virgilio è una guerra un po' mitica mitologica che sta a indicare semplicemente qui vuol dire già molti hanno versato il loro sangue per l'Italia finalmente arriverà qualcuno che li riscatterà che porterà la giustizia porterà la pace il Veltro la profezia del Veltro questi la caccerà per ogni villa cioè vuol dire che il Veltro questo personaggio non meglio identificato caccerà l'avidità l'avarizia per ogni villa da ogni città da ogni comune d'Italia finché l'avrà rimessa nello inferno la onda invidia prima di partilla finché non la caccerà appunto nell'inferno là da dove è uscita l'invidia ha voluto che uscisse dall'inferno per diffondersi nel mondo un Dio per lo tuo me per cui io Virgilio per il tuo meglio penso e discerno penso e giudico che tu mi segui e io sarò tua guida tu possa seguirmi e io sarò la tua guida e trarrotti di qui per loco eterno e ti porterò ti porterò via da qui per un luogo eterno a vedere i regni dell'oltretomba in particolar modo l'inferno e il purgatorio sarà la sua guida fino al paradiso terrestre addirittura Virgilio lascerà Dante solo quando quando Dante incontrerà Beatrice che sarà la guida successiva del viaggio si attueranno le profezie di Gioacchino da Fiore era un monaco era vissuto un centinaio anche più di anni prima e forse Dante conosceva le sue profezie la rigenerazione del mondo l'era dello Spirito Santo verrà un grande uomo a ristabilire la pace ma chi? un nuovo imperatore che è un grande della scala signora di Verona uguccione della fagiola che aveva fatto il podestà in svariati comuni del centro d'Italia anche in Toscana ci sarà la riforma della Chiesa sarà eletto un nuovo Papa ritornerà Cristo allora tornerà per sempre non verrà ma perché c'è scritto nella Bibbia che quando tornerà sarà per il giudizio universale che sia invece il veltro prefigurazione della stessa commedia strumento di diffusione di un messaggio universale di amore e di fratellanza profezia vera oppure profezia appena appena accennata cioè non sappiamo diciamo che semplicemente forse una suggestione non ben chiara volutamente forse misteriosa questa del veltro infatti noi ci lasciamo proprio con questa domanda e se fosse una profezia volutamente senza nessun riferimento preciso perché Dante stesso non sapeva quando scriveva di questa profezia del veltro cosa aveva in mente è un po' è un po' con questa questo dubbio con questa domanda che vorrei lasciarvi abbiamo pertanto parafrasato fino al verso 114 del canto primo dell'inferno avete delle domande su questo canto primo dell'inferno sul veltro Virgilio